Buonasera a tutti. Come sindaco di Conflenti ci tenevo a fare un saluto caloroso a questa riunione dei medici che hanno fatto la storia dell'ospedale di Sovraia. Un saluto particolare innanzitutto a Giovanni Barba, il medico che mi è stato vicino in qualsiasi circostanza e che oggi ad essere il grandissimo medico è un amico fraterno e compagno di tanto e tanto, anche politico. So che dietro l'organizzazione di questo ritrovoci Giovanni e quando organizza lui c'è la sicurezza della buona riuscita. E poi un saluto caloroso e colmo di gratitudine a tutti i medici presenti a questa bellissima iniziativa. Per noi confrentesi all'ospedale di Sovraie Mandelli ha rappresentato da sempre un punto di ritenimento importante. Ci siamo sempre rivolte a questo ospedale con fiducia, con la stessa fiducia che solitamente si accorta agli ospedali di programma. Nonostante sia negli ultimi anni molto dimensionato, l'ospedale di Sovraia resta per noi comuni dell'aria eterna ancora oggi un punto di ritenimento particolarmente risultato. E portando a compito della politica fare in modo che questo presidio continui ad essere una pedrina fondamentale dello specchiere della sanità calabresa. Un appello a voi medici che rappresentate la buona storia della sanità. Dateci una mano, supportateci e sosteneci in tutte le iniziative che verranno intraprese a salvaguardia del nostro ospedale. Abbiamo ancora bisogno di voi, sia come medici e sia come partner delle prossime battaglie comuni. Grazie per tutto quello che avete fatto e che farete per noi. Buon proseguimento a tutti e buon divertimento di questa perdizione. Grazie per la visione. Grazie per la visione. Grazie per la visione.